Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Vabbè, vi devo nemmeno dire cosa stiamo facendo. È un'impresa incredibile, vi lascio nelle schede sempre il 30. E niente, ladder con Simantec, Lerdi, Pandi, che c'è, non lo lascio. Vi lascio quell'altro, ovviamente voi poi riprendetevi tutto. Like, iscrizione, questo penso sia fondamentale, ormai lo sapete, e si gode. Prima partita, vediamo di farla andare bene. La comp è bella, importante la loro. Muoio Kodo, ok Ok, bella, bella, bella. Ciao YouTube, sono TheRage, questo lascialo. Lo lasceremo. Ovviamente, ragazzi, anche TheRage è qua che, vabbè, fa il tifo per noi, per modo di dire, perché ci ha battuto, però, nel senso, è sempre qua, è molto carino. Vabbè, ci ha aiutato, l'avete visto, nel video di Lola. Ci abbiamo un paio di video con lui, molto forte, che con Muo ci ha preso in carriola, e oggi invece ci ha preso in carriola Simantec. Sempre con Muo, ragazzi, finché non ci saranno i buff nerf, e Muo, ragazzi, è troppo forte. Ecco, Muo è il brother, quello molto sopra la media. Invece, Kenji è difficile, situazionale, è un po' strano, ce l'ha un po' tutte, invece Muo è un trita sassi e basta, è forte, fine. Un altro Kenji con Stu e Max, ok, vai, e lui ha l'altra star power, cioè io c'ho un colpo, eh, vabbè, c'ho un colpo, però Max mi ha rotto tutto, forca vacca. Mi ha dato 200 colpi Max, non me l'aspettavo, ah no, c'ha la mia stessa star power, l'aveva colpito... No, no, non ci credo, no, non ci posso credere, abbiamo perso una streak incredibile, palle. Ah, e vabbè, ci sta. Moltiplicazione delle BB. Sì. Questa era improbabile. Nooo, maledetto! Mi doveva tirare la bolla. E questa partita non è così scontata, comunque. Quando finiscono i gan... Oh, ha sprecato... Potrebbe essermi scivolata l'ulti. Eh, Symantec ci ha aperto lo spazio, preciso, preciso. Bellissimo. Bellissimo. Ehi, buongiorno. Potrebbe... 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 Potrebbe sì. Capandi, la cattiveria. Ci piace. Ok, allora... Sono un clown. La palla poteva partirmi. Il rumore. Ha messo l'orso, perciò si aspetta. Si sono accoppiati. Affettati! Vieni qua, nitta! Mi ero perso... Mi ero perso... Ecco. Mi devo ricordare tutte le volte, non l'ho ancora capito, che quando finisce la ulti, io ritorno da dove sono partito. Sta cosa vi intrippara, capisciola? La mia Symantec, però, che animale. Oh, cazzo! Questo no, eh, però. Ci stanno le due bibi, va bene tutto. Doppio prank, doppio tutto quello che vi pare, però... Doppio mo' no, eh. Oh, che ho fatto? Bello, l'ha predictato. Bravo, Pandy. E zin, 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 zin. Poi oggi, io avevo preparato anche un pranzo incredibile. Avevo preparato il pranzo delle live. Mi ha detto, ma non la mangi da un po'. Cioè, me l'ha consigliato mia mamma, pensa te. È più fan lei di voi. Beh, giustamente, la mangi da un po' no. E ti affetto! Ok, bellissimo. Il trattore. Anzi, i due trattori. Ti lascio te a destra, Pandy. Ok, ero arrivato per prendere la palla di cattiveria, ma non è servito. Ah, peccato. Bellissimo. Bella clean. Bruttini questi, eh. C'è un pin maccerino. Questi tryhardano. Non ci posso credere. Ho visto Symantec cambiare stile di gioco. Questi... Eh, vabbè. Pazzo. Come water. Come water. I see nothing. no e questa l'hanno sentita no no vabbè che salvataggio quanto rosico avevo fatto una cosa incredibile e si gode e si gode e ragazzi chi finisce prima tra me e Ghie siamo 1244 contro 1243 però lui forse non ha la stricca non gli basta una partita a me si fate il tifo ragazzi Italia Spagna bisogna portarsela a casa al photo finish minchia questi random che si sono trovati che tifo ragazzi che 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 c'è 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 Oddio lo trova il barco E si gode E si gode Bravo Bravo Symantec Fatto Vediamo subito i risultati, veloci, 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 prima che... E ragazzi ce l'abbiamo, quinto al mondo, godo, quinto al mondo e siamo primi in Italia con un buon distacco, vabbè, spettacolo. Abbiamo fatto primo al 30 e prima al 35, sì vabbè, buonanotte, sì no, ho detto giusto, primo al 30 e prima al 35. Ragazzi, la storia, giustamente su quello che poteva essere uno dei miei prove preferiti, è stata fatta. Spero che abbiate visto questo video, spero che vi sia piaciuto, noi abbiamo fatto il massimo, un push clamoroso, prima al 30 e prima al 35, sono orgoglioso. E ragazzi, like, iscrizione, il tuo codice, fate quello che vi pare, ci vediamo nel prossimo video, ciao!